Il treno regionale 12-8-7-8 di Tremitalia, proveniente da Palermo Centrale e Diretto a Sant'Agata di Militello, per le ore 9.49, è in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Termini Marese, Campo Terice, Lascari, Cittadù, Polina Santa Autocastetese, Lusa, Santo Stefano di Camastra di Strenza, Cambia, Ategolci, Sant'Agata. Il treno regionale 12-8-7-8 di Tremitalia, proveniente da Palermo Centrale e Diretto a Sant'Agata di Militello, per le ore 9.49, è in arrivo al binario 3. Il treno regionale 12-8-7-8 di Tremitalia, per le ore 9.49, è in arrivo al binario 3.